La prima serata della 66esima edizione di Sanremo, si apre con i big, e l'esibizione di molti ospiti, nazionali, ed internazionali, come Laura Pausini, i comici Aldo Giovanni e Giacomo, il fenomeno musicale, Matt Glews. Alle 23 è stato poi presentato uno degli ospiti più attesi, Elton John che ha ricevuto una standing ovation ancora prima di cantare, poiché Carlo Conti, ha invitato il pubblico ad alzarsi in piedi, sottolineando l'importanza della carriera dell'artista inglese. Il grande Elton John, seduto al piano, al centro dell'Ariston ha voluto regalare una grande emozione al pubblico presente nel teatro, e al pubblico a casa, cantando Your Song. Una canzone che ha toccato il cuore di molte persone, al quale è seguito un lungo applauso. Dopo l'esibizione il cantante non ha accennato nessuna polemica riguardante le unioni civili, ormai tema quotidiano in Italia nell'ultimo periodo. Ha espresso in una brevissima frase il suo punto di vista, non pensavo di diventare padre. Ser Elton John ha ringraziato e se n'è andanto dunque senza polemiche. Grazie a tutti.